Il linguaggio del corpo e il comportamento di Meghan Markle in un recente evento negli Stati Uniti con il principe Harry mostrano che è la leader dei due, secondo un esperto.Il duca e la duchessa del Sussex hanno recentemente partecipato a un evento per onorare i veterani. Tenutosi alla vigilia del giorno dell'armistizio, Meghan Markle, 40 anni, e suo marito, il principe Harry, 37 anni, sono saliti sul tappeto rosso. A New York per il Gala della Salute alla Libertà.All'evento di alto profilo, ospitato all'Intrepid Museum di New York, Harry ha conferito medaglie ai veterani. Alla cerimonia, sia Harry che Meghan hanno elogiato il valore dei membri del servizio e delle loro famiglie. Il duca ha consegnato gli Intrepid Valor Awards a cinque membri del servizio, veterani e famiglie militari. La coppia ha indossato abiti sfarzosi in stile tappeto rosso per il gala e ha anche adornato i loro look con un papavero rosso in un cenno al giorno della memoria.Harry indossava un classico completo completamente nero. Insieme alle sue quattro medaglie e la croce per il cavaliere comandante del Royal Victoria Nordar al collo. Sua moglie ha optato per un abito rosso Carolina Herrera con una profonda scollatura, con i capelli in uno stile scignum pettinato. Un esperto ha affermato che il linguaggio del corpo della duchessa in immagini e filmati dell'evento mostrava che Meghan stava guidando Harry sul tappeto rosso. L'esperta di linguaggio del corpo, la dottoressa Lillian Glass, ha dichiarato a Express.co.yuk, Meghan è nel suo elemento.Lei ha il controllo totale poiché in sostanza è la leader dei due protagonisti di Harry. La dottoressa Lillian nota anche che Meghan è quella che inizia il Contatto con suo marito, allungando la mano e accarezzandogli il braccio e sorridendogli. Afferma che la duchessa è molto a suo agio nel controllare la coppia. Ha detto, Meghan è molto a suo agio in questo ruolo e in realtà è raggiante con il suo sorriso genuino mentre prende il controllo e guida Harry. È lei quella che lo raggiunge e lo tocca. Grazie a tutti.